contenuti e non mi volete aiutare abbonatevi nel mio primo canale che se voi paghereste 200 euro al mese io in tutti i video cito i vostri tutti parlerò di ogni vostro video avete un esercizio commerciale avete un'attività produttiva ecco io lancio questa sfida a tutte e tutti voi innanzitutto date like a questa live una volta che sarà finita e io la faccio così in verticale perché un esperimento che faccio infatti la maggior parte del mio pubblico mi guardano dal cellulare poi commentate qua sotto fate duo se volete utilizzate questo metto questo video in common creative attribution riutilizzo consentito quindi potete farne quello che volete basta che sia creativo mi sembra che non so i movimenti delle bolle se sono aleatori o no si possono influenzare sì mi sembra che che poi flusce o no e poi mi raccomando abbonatevi al mio primo canale comparirà mi sembra nella descrizione di questo canale qual è il primo canale e così mi aiutate già mi hanno dato un like mi hanno dato un like sono molto 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 contento del like che che mi hanno dato avrei potuto fare una live nell'altro canale ma vabbè nel perché non ho fatto dall'altra anzi avrei potuto fare una live a reti unificati che facevo entravo qua nell'altro profilo e facevo facevo lo mettevo qua e cellulare che è un po più basso abbastanza basso due centimetri più basso guardate voi gli arriva gli arriva qua in pratica tanto così di differenza perché perché ci sta nel monitor vedete ci sta sta ci sta tutto dentro il monitor di manca a mezzo centimetro sono non so se questo è 6,5 pollici e quest'altro non so se 5,5 5,2 credo più di 5 più di 5 pollici che cosa vediamo la chat che ho avuto ho avuto io schiacciate non chat dal vivo tutti i messaggi e vabbè ma il problema il problema è che avrei dovuto accendere l'altro cellulare giustamente per leggere la chat in questo come ho fatto l'altra volta io sapevo che non sarebbe venuto nessuno forse è venuto qualcuno e io che non ho salutato se n'è andato poi vediamo qua ci sono sempre dei puntini condividi disattiva microfono salva momenti salienti ma si può salvare i momenti salienti di una chat senza che di una live senza che la live si interrompa ma io non lo so io non lo so provo grazie a tutti grazie a tutti